E' finita ieri sera con una sparatoria nel quartiere di Castellone di Formia in provincia di Latina la latitanza di Filippo Ronga, 42enne, ritenuto esponente del clan camorristico Ranucci di Sant'Antimo. L'uomo era ricercato dal 2013, destinatario di due ordinanze di custodia cautelare e gli investigatori da diverso tempo erano ormai sulle sue tracce. E' stato rintracciato nella città del Basso Lazio dove i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Giuliano sospettavano si nascondesse. Qui hanno cercato di fermarlo mentre era in compagnia di altre due persone. L'operazione è scattata intorno alle 21 in Pianza Sant'Erasmo. I militari hanno tentato di bloccarlo ma Ronga si sarebbe divincolato cercando la fuga e tirando fuori una pistola. Secondo la ricostruzione a quel punto uno dei carabinieri ha esploso alcuni colpi che hanno raggiunto Ronga ferendolo alla spalla. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito delle urla e di aver poi visto i carabinieri bloccare tre persone, uno dei quali si è divincolato e estratto una pistola. Sono poi partiti forse tre o quattro colpi che hanno scatenato il panico in piazza e nel quartiere. L'arma del latitante con il caricatore pieno di colpi è stata sequestrata. Fermate dai carabinieri anche le altre due persone che si trovavano con lui a Formia. Ronga è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni all'ospedale Dono Svizzero di Formia dove si trova ora piantonato in stato di arresto per tentato omicidio, porto abusivo d'arma clandestina e resistenza pubblico ufficiale.